oggi cominciamo una partita in pizza connection 3 questo gioco ci mette al comando di una catena di pizzerie che può anche andare a occuparsi dei propri competitors in maniere non proprio pulitissime allora questa è una partita libera 100 giorni abbiamo tre competitors eccone qua uno è senatus pizzusque romanus qua ne abbiamo un altro non lo vedo perché non lo vedo eccolo qua che è pizza cattura e qua abbiamo il terzo competitor che è montalgo pizza worldwide e noi abbiamo questa bella pizzeria di fianco al colosseo pronta per essere acquistata che può essere la nostra prima location allora questo gioco appunto è tutto sulla produzione e distribuzione di pizza prima cosa che guardiamo sono i possibili visitatori qua vediamo che come possiamo immaginare abbiamo una tonnellata di turisti e arriveranno attorno alle 18 affamati come lupi e quindi quello che dobbiamo fare è fare un bel ristorante per turisti e proporre delle pizze che possano piacere ai turisti come si fa tutto ciò allora per prima cosa cominciamo a comprare il ristorante o meglio affittarlo e chiamiamolo la trappola per turisti un nome una garanzia perfetto a questo punto abbiamo la possibilità di avere un bel menu non abbiamo pizze le pizze le dobbiamo andare a fare ed eccoci qua nell'editor di pizze una delle parti più divertenti del gioco abbiamo varie forme principali della pizza quadrata freeform a stella triangolo con questa pizza tonda possiamo andare a tirare un po gli angoli e magari fare una cosina così tirare un po questo tirare un po questo abbassare un po qua e in un modo o nell'altro potrebbe quasi quasi ricordare un orsacchiotto è un orsacchiotto con la frangetta eccoci qua questo è più un orsacchiotto perfetto diciamo che l'orsacchiotto è una delle figure che mi riesce meglio non sono ancora bravissimo base di pomodoro è praticamente di default su qualunque cosa per ora non sappiamo molto sui gusti degli utenti perché abbiamo bisogno della ricerca di mercato per sapere esattamente dove andremo cosa sappiamo abbiamo questo cellulare che ci dice se i turisti apprezzano o non apprezzano quello che stiamo facendo alla nostra pizza e abbiamo anche un'altra cosa possiamo andare a vedere il profilo dei turisti che vuole varietà varietà vuol dire almeno un ingrediente per ogni categoria un peso non è importantissimo verdure carne pesce e soprattutto spezie questo è il range di prezzo che è disposto a pagare e poi questo è lo stile del locale che dovrebbe essere uno stile moderno ma quello ci ne occupiamo dopo allora turista vuole verdura possiamo partire con i pomodori abbiamo il pomodoro intero possiamo anche mettere giù un pomodoro intero così o possiamo tagliarlo a spicchi o possiamo tagliarlo a listelli allora facciamo degli occhietti per questo orso con il pomodoro perfetto non vuole particolarmente il nostro turista non vuole particolarmente dei formaggi andiamo quindi a mettere giusto un pochino di mozzarella per la varietà vuole invece della carne con la carne andiamo a prendere il salame e andiamo a fare il naso ok vuole anche il pesce e possiamo prendere un pezzo di salmone intero un pezzo di granchio intero e fare una bocca così ok non è obbligatorio naturalmente fare queste figure qualche adesso che lo guardo è più un gatto che un orso possiamo mettere anche naturalmente un pochino di frutta possiamo mettere magari una pettina di banana in centro qua sul naso e proviamo a mettere anche un po di pezzi e dello zenzero e andiamo a vedere la valutazione che ci sta dando questa è la valutazione al lavoratore la valutazione al turista è che il peso di questa pizza non è male quindi possiamo aggiungere ancora degli ingredienti stiamo comunque sugli ingredienti di base che ci siamo scelti ok questa pizza ha una buona qualità dei condimenti vediamo se il peso è andato a posto esatto questa pizza ha una buona quantità dei condimenti mi piace l'uso degli ingredienti non posso permettermi questa pizza in realtà un messaggio sbagliato andiamo ad alzare questo valore di vendita fino a quando più o meno vediamo che il giudizio cambia e possiamo permetterci di fargli pagare 17 euro ok questo lo chiamiamo gatto matto non posso metterla meno sulla metà peccato continua salva salva ok e questa pista gatto matto andiamo a metterla sul menu della nostra pizzeria in realtà all'inizio dato che abbiamo sostanzialmente solo turistiche prevalentemente turistiche arriveranno noi possiamo offrire anche una pizza sola un aspetto molto importante di questo gioco e sono le forniture di sono i rifornimenti noi possiamo mettere a fare pizze con tutti gli ingredienti di questo mondo il problema che poi ogni ingrediente va gestito e occupa uno spazio in in dispensa questa pizza solo sei ingredienti che per una pizza variata è veramente poco e quindi cercheremo di giocare attorno a questi ingredienti questa nostra dispensa questa nostra cucina questa nostra pizzeria cominciamo andare a ridare un po la situazione andiamo a mettere giù un bel fornetto di tipo moderno facciamo anche un buon livello rotiamo e un forno un forno può essere gestito da un singolo cuoco non possono esserci due cuochi sullo stesso forno a questo punto cominciamo a mettere giù quattro tavoli moderni e qua cerchiamo di tenere un po di spazio dalle dei muri anche un po di spazio tra i tavoli idealmente ecco non così idealmente vogliamo cinque caselle ecco qua dopodiché continuiamo con i nostri tavoli questi sono tavoli di moderni si andiamo a metterne altri due allora cinque un buono spazio per poterci poi mettere attorno le sedie cominciamo così non esageriamo perché comunque poi dovremmo avere abbastanza personale per il servizio e preferisco andare per gradi sinceramente per per vedere quante quanti pizzaioli avrò bisogno quanta in realtà la domanda che arriva e andremo a calibrare meglio la pizza come vedete così c'è spazio per tutti e non stiamo bloccando che quella sedia l'ho messa giù male andiamo a rimetterla a posto perfetto così il ristorante a questo punto è pronto abbiamo la nostra piccola cambusa qua la nostra piccola la nostra piccola dispensa naturalmente è meglio avere una dispensa separata per esempio qua però non possiamo comprare esattamente perché abbiamo bisogno di ricercare depositi uno mi sono complicato la vita mettendo la ricerca a zero e quindi cominciamo a sbloccare i depositi questo punto cosa ci mancano ci mancano sono naturalmente i dipendenti e come notate siamo in lotta per questa per questi clienti proprio i cerchi su questa fermata metropolitana possono andare di qua possono andare qua a scelta quale pizza mangiare ok quindi questo sarà il primo ristorante che dovremmo provare ad attaccare allora cominciamo a prenderci un paio di cuochi anche tre forse due caratteristiche questa è la bravura del cuoco questa velocità entrambe molto importanti partirei alle 9 con il primo cuoco poi ne prenderei uno veloce per l'ora di punta e comunque è meglio andare leggermente anche nel periodo successivo al picco perché rimarrà quasi di sicuro gente nel ristorante e quindi altre pizze da sformare se no chiuderemo il ristorante con ancora gente dentro a questo punto andiamo a mettere giù anche tre personale tre persone di servizio per il momento avrebbero bastare e questi che sono quelli che vanno a fare la spesa ne mettiamo giù uno qua prima uno qua e uno qua a questo punto il ristorante dovrebbe essere pronto per essere aperto controlliamo questa checklist è tutto a posto quindi sblocchiamo andiamo a velocità 2 il ristorante dovrebbe aprire dovrebbe essere aperto infatti lo è possiamo vedere che la gente ora è qui sta cominciando a ordinare le pizze la prima pizza è pronta ed è uscita questo è vediamo chi è è un turista affamato 33 per cento posizione nella lista 5 pizza cron pizza cottura questo è il loro giudizio generale rispetto ai competitor logicamente questi clienti sono persistenti e stiamo vedendo che comunque la pizzeria comincia già essere piena quindi quasi di sicuro ci toccherà mettere giù altri tavoli ma come state vedendo non abbiamo tutto questo tutto questo personale a gestire vedete che sono tutti in attesa di essere serviti del singolo cameriere questo probabilmente si è già stancato tre turisti non mi ha messo a mio agio e va bene e qui il nostro cuoco sta sfornando pizza il nostro cameriere cerca di portarlo il più velocemente possibile le scorte sono bassissime nel mentre stiamo anche ricercando quello che possiamo ricercare dal punto di vista delle della possibilità di avere più ingredienti intanto piano piano ci portano altri ingredienti stiamo cercando di soddisfare questi tavoli naturalmente in che i tavoli sono pieni non possono entrare altre persone e vediamo com'è andato questo primo turno le pizze vedo che stanno uscendo molto quasi tutte buone questa è un po bruciata anche questa un po bruciata stavo dicendo che stavano uscendo le buone e sono uscite 4 pizze bruciate naturalmente basta dirlo e 5 pizze bruciate 6 pizze bruciate naturalmente quella è la qualità del nostro cuoco sono già diventate le 18 non abbiamo i tavoli pienissimi non dico che ci siamo ma allora vediamo che il nostro no no non ha un problema di ma non ha un problema di salute comincia a essere un pochino già stanco ecco e ha finito fortunatamente il turno speriamo che si ravveda durante la notte probabilmente ha lavorato troppo la salute la salute penso che sia il carico di lavoro la motivazione è se non si riesce a servire i clienti la motivazione scende se si riesce la motivazione sale la velocità la velocità la cordialità è la cordialità ok e stiamo andando avanti è passata la mezzanotte non è uscito il report ma andiamo a vedere il report finanziario una volta finita questa prima giornata e come vedete come vi dicevo appunto anche se siamo oltre alla mezzanotte avevamo un sacco di persone da gestire allora andiamo a vedere un pochino le informazioni le informazioni che troviamo qua chiudiamo questo allora per il momento abbiamo una passività ma è dovuta all'arredamento e alla ricerca logicamente 5.000 e 13.000 abbiamo comunque fatto un 15.000 più un 3.400 3.400 è già abbastanza buono andiamo a vedere invece le statistiche del ristorante come visitatori non è male 49% sedia trovata quindi ci dice ottieni una sala di pranzo più grande metti più sedie molto bene come ordine fatto 46 su 61 assumi altro personale 46 su 46 le pizze ricevute quindi vuol dire che i due colli di bottiglia grossi sono che non abbiamo abbastanza sedie e non abbiamo abbastanza camerieri andiamo quindi a gestire il nostro ristorante mettendo giù ancora un altro paio di tavoli andiamo sempre per gradi e forse ci toccherà già anche mettere due camerieri per turno perché abbiamo già visto che uno dei colli di bottiglia è il servizio andiamo quindi a gestire i camerieri quello che temo naturalmente è che facendo questa manovra arriveremo ad avere molto rapidamente il problema della cucina allora un cameriere qua un cameriere qua lo scende scegliendo liberalmente a caso più o meno poi comunque i camerieri possono essere addestrati così come i cuochi eccetera allora a questo punto dovremmo essere in grado di comprare il nostro deposito compriamo questo è abbastanza vicino c'è un attraversamento pedonale affittiamo andiamo a scegliere la qualità del prodotto dovrebbe bastarci un vendita all'ingrosso per il momento e diciamo che deve fornire trappola per turisti rifornimento automatico quando vuoto ok sblocchiamo e andiamo a ricercare qualcos'altro cosa possiamo ricercare? possiamo ricercare potrebbe essere importante la pubblicità cominciamo con la pubblicità ottimo la pubblicità dovrebbe permetterci di spostare un po' di gente verso il nostro ristorante posti 528 un turista zero turisti sono le 7 di mattina per ora da noi non arriva praticamente nessuno e a questo punto il ristorante è aperto riabbasso la velocità arriva già le prime persone e via che le prime pizze cominciano a essere servite e vedo che il servizio è molto veloce spero che questa cosa piaccia ai nostri clienti per come soldi siamo ancora a occhio a posto adesso il codro di bottiglia potrebbe cominciare a essere il pizzaiolo abbiamo quasi tutti i tavoli pieni prendiamo questa persona cosa ci dice? anche lei non ci dice nulla ci dice ad esempio la pizza 43,98 sull'arredamento 37,34 e 71 sul prezzo ok la gente è abbastanza felice almeno dell'arredamento ho notato che questi due tavoli sono storti rispetto agli altri e continuano a uscire pizze per il momento funziona abbastanza bene non stiamo combattendo un gran che contro i nostri competitor che hanno messo giù i loro tavoli ma mi sembra che abbiano un ristorante molto più triste e vuoto del nostro che sembra avere un buon successo questo è di nuovo quello siamo con problemi di salute però fortunatamente ne ho già messi due quindi dovesse ammalarsene uno cioè nel secondo a coprire nel mentre abbiamo anche concluso il marketing però direi che per il momento ma no giusto per cattiveria affittiamo questa postazione per cercare di togliere un po' di gente da questo ristorante la nostra pizzeria comunque è già abbastanza piena così e probabilmente non c'è neanche tutto questo bisogno di creare altri tipi di pizza allora catena di fornitura 90% vediamo catena di fornitura 90% ingredienti ricevuti tasso di successo 3% ok non mi sembra di aver visto i problemi di fornitura ma poi li possiamo magari rivedere sala trovata 85 su 89 non c'è bisogno di allargare al momento il ristorante 75 su 85 l'ordine è fatto probabilmente i nostri i nostri come si dice i nostri camerieri dovranno essere addestrati per essere un pochino più veloci pizza è arrivata 72 su 75 andiamo a vedere le finanze come finanze siamo ancora in passivo di 3000 ma abbiamo speso 7000 di ricerca e 6000 di arredamento quindi per il momento non me ne preoccupo continuiamo però comunque la nostra ricerca e andiamo a ricercare il carretto della pizza che potrebbe servirci per avere dei da usare come attacco alla competizione mettendo un carretto della pizza molto vicino a un ristorante l'avversario di sicuro ci permette di consumare altre cose ecco ora il ristorante è pieno il pizzaiolo forse era un pochino sovralavorato purtroppo abbiamo molte pizze che non sono state consegnate ma vediamo che siamo comunque a 20.000 che mi sembra una buona cifra in questa fase del gioco la dispensa è piena acceleriamo al massimo e diamo un'occhiata anche al nostro competitor che continuano a sembrarmi avere un sacco di problemi non so se si può si può andare in fallimento direttamente tanto sto guardando anche se spuntano fuori altri ristoranti non mi sembra e intanto è cominciato un altro turno di lavoro facciamo che questo turno è l'ultimo per questo video ed ecco che cominciano di nuovo a uscire le pizze e sembra che vada ancora tutto bene nel mentre dovremmo avere anche il nostro famoso carrettino andiamo a vedere se lo si gestisce così vuoi davvero comprare un carretto della pizza? si il carretto della pizza no lo voglio di sicuro mettere qua lo voglio mettere qua no qua no sto cercando un posto abbastanza vicino alla competizione non è questo neanche questo ecco qua mi sembra molto vicino alla competizione perfetto qui ci vuole qualcosa per l'adolescente perfetto nel mentre cominciamo a dargli allora a mettere giù il carrettino ok e a dirgli che come menù comincia ad avere la gatto matto e vediamo se a qualcuno piace e nel prossimo episodio di sicuro potremmo andarci a occupare di una seconda pizza che vada a piacere agli adolescenti e mentre andiamo nella ricerca abbiamo sbloccato il secondo livello importante immediatamente è la ricerca di mercato e cominciamo con questa che ci dice almeno qualcosa sulle pizze che stiamo producendo torniamo a occuparci del nostro ristorante a quest'ora è abbastanza deserto sono le 14 no in realtà ho detto che è deserto ma semplicemente non lo sto guardando si è riempito subito come soldi non siamo messi benissimo forse potrebbe servire un prestito forse dovremmo rallentare un pochino sulle ricerche il ristorante comunque mi sembra pieno le pizze continuano a uscire belle e veloci quando le pizze cominceranno a diventare un collo di bottiglia naturalmente sarà il momento di chiedere a un secondo cuoco di intervenire con una seconda un secondo forno in cucina ok sono le 20 stanno uscendo ancora le pizze sembrano tutti ancora abbastanza non sto vedendo nessuno andarsene per il momento forse ne ha qualcuno no ora il locale è mezzo vuoto 21 adesso dovrebbe arrivare un'altra piccola ondata eccola qui ma comunque la gente comincia a sembrare felice vediamo ad esempio questa persona che ci dice che l'arredamento è buono tutto il resto non lo fa impazzire ed è abbastanza neutrale rispetto a tutti i ristoranti vediamo quest'altro 96% sull'arredamento anche lui abbastanza per ora neutrale d'altronde sono comunque due giorni ok eccoci qua alla fine di questa giornata e alla fine di questo video andiamo a vedere che abbiamo forse ancora qualche piccolo problema di fornitura visitatori 76 su 115 108 hanno trovato la sedia 103 hanno avuto il servizio ma solo 76 pizze vendute quindi è il momento di una secondo forno probabilmente andiamo a vedere anche i finanziari anche sui finanziari anche a questo giro siamo sotto i 10.000 ma ricordiamo 20.000 di ricerca comunque vedete i profitti l'incasso è 22 25 25 quindi sta migliorando la pizza venduta è naturalmente solo una ovvero la gatto matto bene spero che questa nuova serie vi piaccia se siete interessati a questo gioco trovate il link per acquistarlo in descrizione ringrazio ancora gli sviluppatori per averne fornito gratuitamente una copia di valutazione per questo gioco se il video vi è piaciuto lasciate un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e alla prossima